Con una imperiosa e volitiva rimonta la cestistica Spezzina batte al Palamariotti Spezzino la pur pericolante squadra di Moncaglieri che si è rivelata più ostica del previsto. Così per le bianconere la zona playoff in fondo rimane ad un paio di punti di distanza. Adesso un weekend di stop per lasciare campo alla Coppa Italia dopodiché complessa trasferta aerea in Sardegna avversario il Selarjus. Nel frattempo va facendosi largo nel campionato nazionale di categoria Landar 19 della cestistica. Sicuramente noi siamo arrivati alla partita di Moncaglieri consapevoli che il valore delle ragazze di Moncaglieri non rispecchia la posizione in classifica perché sono un'ottima squadra. Ci hanno messo molto in difficoltà però sono state molto brave soprattutto da un punto di vista atletico a metterle in difficoltà. Abbiamo alzato l'intensità in difesa e questo ci ha permesso poi di portarla a casa. Sicuramente è una vittoria molto molto importante. Rimaniamo comunque nel solito posto però in realtà ci avviciniamo molto a quella che è la posizione in classifica che ci interessa. Adesso abbiamo sicuramente un periodo di pausa con il fatto che c'è il weekend della Coppa Italia per lavorare e recuperare anche un po' fisicamente. Passando infine con le immagini dall'ultimo incontro della cestizica spezzina al campo maschile della palla spicchi. Purtroppo in divisione regionale 1 pool promozione perde la Landini Lerici a Montepertico per 74-69 l'importante confronto con la PGS Auxilium Genova. A compensazione vittoriose entrambe le rappresentanti della provincia in divisione regionale 2 dove vincono sia la capolista Canaletto che la Golfo dei Poeti.